Buongiorno, sono Roberta Cialtini, dirigente scolastico presso il liceo scientifico per lei di Macerata. Sono qui a dare il benvenuto agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico in quanto sono dirigente in questa istituzione a partire dal primo settembre di quest'anno. Nella prima settimana di lavoro mi sono impegnata alla crevente per fare in modo che la scuola potesse riaprire in presenza. Chi temo molto al fatto che i ragazzi frequentino le lezioni del liceo a scuola e non con la didattica a distanza, laddove questo fosse possibile. Ce l'abbiamo fatta, vi aspettiamo ragazzi. La settimana prossima, lunedì, ricominciamo, stiamo lavorando per voi, siamo pronti alla ripartenza e ci auguriamo che sia un anno scolastico veramente sereno e ricco di soddisfazioni nell'ottica della collaborazione tra noi, voi, le famiglie e tutte le componenti del sistema scuola. Questo è l'augurio che oggi faccio alla mia nuova scuola, il liceo scientifico Galilei. Grazie e vi aspetto.